Al Delconero il Pescara non ha tradito. Pompetti il migliore a seguire Drudi e Iacobucci, l'esordio col Delfino. Dopo i successi centrati contro avversari non irresistibili, ma vincere non è mai facile. Quello di Ancona era un test senza dubbio probante contro una macchina da golle dall'impronta chiara e riconoscibile. Troppo bassi nei primi 15-20 minuti, poi Biancazzurri hanno interpretato la partita con intelligenza. Hanno soprattutto reagito allo svantaggio con determinazione, testa e qualità, creando più volte i presupposti del pareggio, arrivato grazie alla fortuita deviazione di Massetti su tiro di Pompetti. Ripresa invece spezzettata e frammentaria, si è giocato di meno ma le occasioni non sono mancate. Il pescarese Iacobucci, quasi 200 presenza in B, si è confermato un portiere forte e affidabile, pari tuttavia giusto. Classifica la mano, uno scontro diretto. Il Pescara ha vinto all'andata e pareggiato al ritorno, non un dettaglio in chiave playoff. Tra i Biancazzurri, come si diceva, il migliore è stato Marco Pompetti, regista preso da subito in mano il centrocampo e dettato i tempi con personalità. L'ennesima conferma, molto più a suo agio con Jumbo piuttosto che con Memushai. Una questione di caratteristiche, il franco senegalese mantiene la posizione, dà più equilibrio, oltre ad avere maggiore fisicità. Questo consente a Pompetti di giocare e toccare molti più palloni. Con Memushai non è la stessa cosa. Ora la sosta, soprattutto la finestra di mercato. Non bisogna perdere tempo. Subito due centrocampisti di corsa e sostanza, comunque adatti al credo del tecnico. Colmare le lacune estive è una necessità. Nel contempo bisognerà sfoltire in uscita, oltre ai vari Galano, Marilungo, Valdifiori e Frascatore, Nzita e Bocic, anche Michael De Marchi. Il club ha intenzione di migliorare la rosa in tutti i reparti. Gli innesti saranno per lo più under con qualche anno di esperienza in Serie C.